salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video come vedete siamo già in pit stop dal benzinaio che avevo lasciato la moto in riserva quindi li facciamo un bel pieno ragazzi oggi con sta giornatina ho approfittato subito come ho visto che c'è stavasto solo ho detto moto subito facciamo bere da bimba bevi bevi tieni bevi bevi ci voleva proprio struscita in moto che tra l'altro fanno 7 gradi però con sto sole ragazzi sta bene vabbè mi son messo maglietta termica pantaloncini termici più sopra c'ho una maglietta e una giacchettina dei file il giacchetto insomma sto bardato bene però se sta una bomba umidiccio qui attenzione un po' un po' un po' un po' un po' un po' e l'azienda matronoma faccio un po' e l'azienda Madonna che moto Ogni volta che avvi Do vengo Questo è un mezzo alla strada Vabbè Quello sapete come si chiama Quello si chiama campo de nome Poco de cognome La prepotenza Madonna Che bestia Il mostro Il mostro Brividi Brividi Che spettacolo Madonna Quando lanci giù le marce Lancia certi petardi POM POM Col cambio elettronico Porco de diventa un cannone Questo è odore di zolfo Anche detto ovo soto Di solito infatti Quando lo zolfo puzza Quando ci si trova vicino Con zone termali O comunque con acqua sulfurea Si dice che quando lo zolfo puzza Vuol dire che cambia tempo Quindi in teoria Dovrebbe venire bel tempo Perché se fino a ieri Ha fatto un tempo de merda Oh No 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 e niente ragazzi pure oggi un bel giretto ce lo siamo portati a casa una cosa tranquilla ma sapete che comunque le temperature sono basse quindi quando a parte che tra un po' è ora di pranzo non so ancora risolto vabbè comunque è ora di pranzo ve lo dico che è ora di pranzo perché sono uscito già che era tardi però ho detto mi frega un cazzo un giro me lo devo fare quindi sarà quasi l'una penso su per giù e niente ragazzi tanto ormai sono arrivato a casa praticamente io per questo video vi saluto come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina lasciare like e un commento se volete e potete trovare la mia pagina instagram in descrizione nel video o nella pagina niente ragazzi anche per questo video è tutto spero che vi piaccia il sound di questo bolide che lo appreziate fatemelo sapere qui sotto nei commenti se vi piace questo sound ragazzi io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao